Da quanto si evince la riunione rassente il comune di Scicli con il delegato che c'è l'assessore alla cultura, scuola, servizi sociali. Perché gridiamo un po' all'allarme da questo punto di vista? Perché era interessante e importante essere presenti per parlare di dimensionamento scolastico futuro, di quelli che devono essere gli istituti presenti in città, legati a quello che poi avviene anche negli altri comuni della provincia. Ma anche per un'altra ragione, perché si parla di dispersione scolastica, di povertà educativa e i fatti che accadono a Scicli, ma anche in altri comuni della provincia, sono legati anche a questo aspetto, al fatto che dobbiamo creare momenti di raccolta. E la raccolta e la crescita dei ragazzi avviene attraverso la scuola in principal modo. E se noi siamo assenti, se noi non riusciamo a capire qual è il problema, non possiamo poi risolverlo o solo pensare di risolverlo con l'assedio della città, con le forze dell'ordine, perché non è solo così che lo risolveremo. Questo è quello che chiediamo, cioè la presenza del comune anche a questi tavoli. Il PD è molto attento, tante volte è disattento sulle motivazioni, fa dei comunicati che non hanno, a mio modo di vedere, né testa né piede. Voglio essere un po' pesante, perché penso che prima di fare un comunicato, tante volte dovrebbero guardare bene gli atti e poi magari pubblicare. Comunque, in questo caso specifico, anche loro chiaramente fanno posizione a qualche cosa, la devono dire e fanno bene a dirla. Però hanno sbagliato sicuramente tante cose, perché questa era stata già una riunione che era stata rinviata più volte, era una riunione che non era in presenza, ma si teneva telematicamente, quindi con una videochiamata e questo tipo di discorso andava fatto se tutto l'apparato del comune funzionava in un determinato modo. Abbiamo avuto dei problemi di linea e chiaramente il CED l'ha motivato anche a fatto un comunicato sotto questo punto di vista, dove è attenzionato che non potevamo partecipare per questo. Quindi il PD, come al soldo, ha qualche cosa da dire, però prima di scrivere e di pronunciarsi dovrebbe accertare un pochino come sono i fatti. Noi siamo sul pezzo, c'è proprio l'ufficio addetto che è molto attento, che si confronterà, si sta confrontando già e recupererà questo tipo di attività che purtroppo non è stata fatta per ovvi motivi.